Il mio ultimo pensiero, prima di andare a letto, a tutti quelli che stanno rientrando dal nord in Puglia. Lo so, è pesante farsi 14 giorni di quarantena dopo essere rimasti due mesi al nord. E voi siete stati quelli bravi, quelli che sono rimasti su per non danneggiare nonni, fratellini, genitori, insomma, per non far danno alla Puglia. Io volevo dirvi grazie e grazie anche di questa ulteriore attesa che farete in casa, mi raccomando, possibilmente in camera e distanziate dai vostri cari utilizzando un bagno autonomo, se potete, e soprattutto avendo tanta, tanta pazienza. Queste ordinanze di quarantena hanno salvato la Puglia, come avrete capito. E quindi noi pensiamo che anche questa volta questo provvedimento sia stato necessario. Quindi responsabilità, pazienza, applicazione delle regole e vedrete che tutto andrà bene.